bene buonasera carissimi amici di quelli che telefonano.it stasera andiamo a vedere la video recensione di Flappy Bird un gioco che non è più disponibile all'interno dell'App Store per tutti gli utenti Android potete trovare la nostra guida su come scaricarli all'interno dell'articolo stesso mentre per gli utenti iOS ci dispiace ma lo sviluppatore ha deciso di eliminare l'applicazione all'interno dello store di casa Apple gioco molto molto chiacchierato all'interno del weekend ricorda molto lo stile di Super Mario Bros il giochino consiste nel far volare all'interno dell'interfaccia l'uccellino, il famosissimo Flappy Bird come potete vedere l'interfaccia è molto minimale cioè non c'è nessun tipo di grafica particolare gioco semplicissimo, davvero divertente ma soprattutto andare a sfidare i nostri amici come facciamo noi di solito all'interno della classifica perché abbiamo anche la possibilità di vedere i nostri amici di Facebook insomma i nostri amici che hanno aderito appunto a questo gioco come potete vedere era disponibile anzi all'interno dell'app store e del play store in maniera totalmente gratuita perché qui in alto abbiamo i banner pubblicitari che ogni tanto arrivano all'interno del gioco stesso insomma un'interfaccia semplice davvero molto minimale che ha fatto subito successo però come abbiamo già detto lo sviluppatore ha deciso di eliminarlo all'interno dello store Flappy Bird per voi Guerzo86 e gli amici di quellichetelefonano.it e gli amici di quellichetelefonano.it e gli amici di che